Lo vedi questo cosino che hai tra le gambe? Questo sarà la causa di tutti i tuoi problemi, tutti. Vittorio? Lo sai che mi ha somigliato tantissimo? Ma che faccio i brovi? Ma sei scemo! La schelista porco. Tricchettona frigida. Magari ci sentiamo! Anch'io ti amo. Benissimo. Maschi contro femmine. Dal 27 ottobre al cinema.